Buongiorno cucelini, oggi è venerdì e come tutti i venerdì scrivetemi nei commenti che cosa accade. Vediamo chi ci conosce davvero bene e si ricorda che cosa succede il venerdì. Questo venerdì però è veramente speciale perché una delle due farà una cosa per la prima volta che però ci faremo dire da lei. Buongiorno, bimbe, Vanessina, ehi! Buongiorno Anastasia, gas per, ehi, gas, ehi, vai a svegliare Vanessina e Anastasia, vai! No, cosa no? Buongiorno, vai che è venerdì, andiamo? Andiamo a scuola? Buongiorno, amore mio! Ciao, ben sveglia! Allora, Ami, oggi che giorno è? Venerdì, oggi è venerdì e di solito il venerdì cosa succede? E Vanessina va sempre i pop! Vai i pop! Ma oggi è un giorno speciale! Anche io, anche io! Sì! Oggi tu inizierai per la prima volta i pop! Sei contenta? Faccio la prova! Fai la prova per vedere se ti piace e poi se ti piace puoi continuare, eh? Sei contenta? Sì! Tanto, vero? Anche io! E niente, adesso ti prepari così andiamo a scuola e poi quando torniamo a casa ti prepari lo zainetto, tanto abbiamo un'oretta di tempo, eh? Puoi anche già vestirti dai pop! Ma te non lo fai già tu quando sono a scuola? Io preferisco... Perché magari piove e... Eh, ma dobbiamo per forza venire a casa a far merenda perché dopo un'ora... Ah, tu dici di andare direttamente ai pop? Sì! Eh, ma c'è... No, dai, un'ora... No, ho un'idea! Possiamo fare così che tu ci puoi prendere qualcosa da mangiare! C'è anche Giada con noi oggi, eh! Eh, eh, eh! E Vanessa non si è preparata lo zaino, dobbiamo tornare a casa per forza! Giada viene da noi, nella nostra macchina! Sì, amore! Poi la mamma ci raggiunge! Viene qua, fate merenda, vi faccio trovare i panini con la Nutella già pronti! Eh? Poi tu mi dici quanto... Tu hai due completi, Pop! Scegli un completo e lo prepariamo, va bene? Ci vuole un attimo, basta volerlo! Va bene, amore? Dai, adesso lavati i dentini! Hai voglia di mangiare qualcosina per colazione? Poco poco! Niente, niente, un pancake! E allora lavati i dentoni! Non vedi l'ora! Non vedi l'ora di andare! Eh? Era il tuo sogno? Ma è ancora piccolina! E speriamo che continui anche, eh! Lo sai che hai due volte a settimana? È lunedì e venerdì! Eh sì, eh! Anche lunedì poi devi andare, se ti piace! Così ti scrivo! Eh? Ok! Va bene? Poi quando torni stasera ci fai vedere a me, cucciolini, un po' di mossette che hai imparato oggi? Va bene? Una cosa veloce, senza vergognarsi! Eh? Dai! Allora, tua sorella non ne vuol sapere di alzarsi! Il che mi sta facendo molto arrabbiare! Vanessa! Cucciolini, insieme a me! Uno, due e tre! Chiamate Vanessa! Vanessa! I cucciolini ti stanno chiamando! Ci sono centomila cucciolini che ti stanno chiamando! Sveglia! Oh, dai, per favore! Ma sono le sette e mezza passate! Ma sveglia! Vanessa! Ti sei anche coperta, Vanessa! Ti devi scoprire! Non coprire! Scoprire! Svegliati! Adesso c'è solo l'etico! Svegliati! Non ti sopporto più! Svegliati! Svegliati! Guarda che non ti mando i pop stasera se non ti alzi! Ti devi alzare adesso! Ma smettila! Dai! Antipatica! Buongiorno! Ma ben arrivata! Qual buon vento ti ha portato a scendere alle 8 e 10! Che è successo al tuo nasino, amore? Mi brucia! Ti brucia! Sei un pochino raffreddata già dall'inizio dell'anno scolastico! Allora, tu hai già fatto lo zaino per i pop, ok? Eccolo! Mentre cucciola! Cucciola sorridente! Però poi ho giocato solo a scuola! Ti preparo i vestiti, hai due coppie di vestiti, hai due coppie di vestiti e tu poi mi scegli quello che vuoi mettere! No, sì, voglio quella viola! Ma sai che ti puoi già vestire per andare? O ti cambi lì? Mi cambio lì! Però fai in fretta, eh! Sì! Puoi anche andare già cambiata, eh! E poi Anastasia, ascoltami, una cosa importantissima! Non ti devi dimenticare le scarpe da ginnastica a scuola, eh! Sì! Puoi che io ho quell'autofitto viola, bianco? Eh! Eh, voglio quella! Ma vai lì là già vestita, no? Quindi ci cambi la vestita! Anche secondo me devi essere già vestita! Così non perdete tempo, eh! Così vai! Tanto dopo torniamo qua, si veste? Eh! Io no! Tu ti vesti lì, ma poi ti vesti pure anche te! No! Mi vesto e intanto mi vesto e poi mangiamo! Fate la merenda, eh! Ti vesti subito, subito! Fai merendina e poi andiamo, va bene! Quando arriva lì va subito in sala! Sì! C'è da capire cosa mettere sopra però il top, eh! Perché fa freddino oggi e il top è proprio corto! Poi ci ragioniamo, va bene? Sì! Dai! Alessio, ragazzi, buona scuola! Tu non hai il grembiule perché hai ginnastica, quindi motoria! Tu il grembiule ce l'hai in macchina! Andiamo! Buona scuola e ci vediamo alle quattro e mezza! Bye bye! Ciao ciao! Ok, cucciolini, le bimbe sono a scuola e adesso, come ho promesso da Anastasia, cercherò i due completini da e-pop che lei ha già acquistato lo scorso anno e glieli farò trovare pronti qua sul divano in camera. Cosicché quando torna dovrà solo scegliere quale mettersi e si va alla prima lezione di prova di Anastasia di e-pop. Questa è l'armadio di Anastasia, qua ci sono i due completini che adesso prendo, vediamo se è corretto. Questo qua viola con il topetino che poi vabbè puoi scegliere quale mettere, io direi questo perché il giallo col viola non mi piace e la sua felpina abbinata. E poi c'è il pantalone nero con tutti questi ganci, sembra si usi, la magliettina bianca e il top giallo. Vediamo che Anastasia e Vanessa escano da scuola e vediamo un po' quale dei due completini sceglierà Anastasia. E voi ragazzi, quale piace di più? Quello bianco e lilla o quello nero? Scrivetemelo nei commenti! E' giunto il momento di andare a prendere le bimbe a scuola, così tra pochissimo scopriremo quale dei due completini di e-pop Anastasia sceglierà. Nel frattempo ho preparato la merenda e ci vediamo tra pochissimo. Buonanotte a casa, ciao bimbe, ciao Giada. Allora Anastasia, io ti ho preparato come ti avevo promesso i due completini, sono sul letto di Daniel, sul divano. Volete fare merenda prima? Dai, allavatevi le mani, andate a lavarvi le mani e poi vi faccio... Però c'è io pane e nutella, va bene? Nutella e merenda è pronta! Allora Anastasia, Giada il panino intero va messina la fetta. Questa è? Buona merenda? Grazie. Prego, avete fame? Fate sedere anche Giada. Non so. Eh, lo so. Cosa avete mangiato oggi a scuola? Ve lo ricordate? La mozzarella. La mozzarella. Con i pomodori e i... La caprese, insomma. Non c'era il pesce oggi venerdì? No, c'era il barriolo che ne fanno schifo. I? L'abrioli panzallati. Ah, vero. Buoni, quelli di magro? A te non piacciono, a me sì. A te? Con burro? Quelli col burro? Con l'olio? Mh, sì che l'ho. Eh, hai mangiato tu Ani? Perché? Non mi piaceva. Niente ti piaceva? Neanche la mozzarella? Sì, mangiate la mozzarella. Un pane di mozzarella. Sì. E la banana. Brava. Tu la banana l'hai mangiata? Mh, guardate. Buona merenda. Grazie. Anastasia, merenda finita. Io qua ti ho messo i tuoi, i tuoi completi. Quali scegli? Questo. Davvero? Ma sai che io avrei detto questo? E invece scegli quello nero? Perfetto. Allora, adesso ti cambi, eh? E poi ci fai vedere come stai. Senti un po', ma sei emozionata? Eh? Sei un pochino emozionata che oggi fai la tua prima lezione di pop? Sì. Sei contenta? Mi raccomando, eh? Non devi distrarre nessuno. No. Va bene? Non ci voglio imparare. Devi imparare. Guarda che pop è una bella disciplina, eh? Vai, cambia. Oh, sei pronta, buona. Sei bellissima. Però c'è solo un piccolissimissimo problema. Quale? Che ha il panciotto di fuori e adesso siamo in una stagione pericolosa. Ci sono le gastroenteriti, siamo in autunno. E quindi ti devi comunque mettere una felpa che ti copra la pancia. Va bene? Quando usciamo. Ok. Ora non ci resta che fare una bellissima coda e si può andare perché siamo quasi pronti. Sei emozionata? Sì. Poi quando sei ai pop, amore, se hai caldo questa la togli. Io lo so. Ok? Vai. Andiamo a fare la coda? Sì. Amore mio? Sì. Ho scelto Anastasia e io pensavo che scegliesse quello lì. L'ero sicurissima. E' vero? E' vero? Mi ha proprio stupita. Mi ha proprio stupita. Non avrei mai detto che scegliesse questo. Forse tu quello lì l'hai usato una volta sola perché ce l'hai anche te uguale. Le scarpe le deve cambiare. Le scarpe le cambia dopo. Non le può cambiare adesso. Le porta in palestra. Allora, bimbe, tu sei già andata in bagno. Vanessa e Anastasia. Andiamo in bagno. Io non so prendere. Sì. Io non so come fai a tirar su le bambine che se pesi 15 chili. Sì, vabbè, c'è il bagno, amore, però. Cosa? E' meglio se vai a casa tua, no? Perché? Oh, Vane, tu sei sempre bastian contrario. Ascolta. Che carina, amore. Amore. L'elastico ce l'hai? Te la fai tu la coda? Sì. Va bene. Allora, vado in bagno io un secondo e ci avviamo verso la palestra. Ok? Sì, amore. Siamo arrivate, Anastasia. Sei contenta? Sei pronta? Sei carica? Qualsiasi cosa, Anastasia, se sei stanca, se devi andare in bagno, chiedi a Samuel, eh? Sì. Tanto Samuel lo conosce ormai, vero? Sì. Ok, andiamo e buona lezione, la tua prima lezione. Carina che è. Che belline che siete. Amore, mi dimentica come è stato. Sì. Siete pronte? Anastasia, togliela la tua amore, fa caldissimo. Va bene, se è caldo io, dici tu di toglierla? Sì. Eh? Dai, buona lezione, ci vediamo tra un uretta. Ciao. Ciao, ciao. Mi raccomando, amore, vatti cinque con l'acqua. Prima lezione è finita, amore, come è andata? Benissimo. Benissimo. Ora tutti i giorni voglio venire anche lui. No, tutti i giorni è un po' tantino, però lunedì e venerdì si può fare. Quindi ti iscrivo? Sì. Quando vado a messa posso andare un po' più? Sono gli stessi giorni, esatto. Eh, i giorni che vado a messa vado. Sì. Va bene, amore, sono contenta di fare un po' di attività sportiva. Siamo Savu e andiamo a casa. Let's go! Yeah! Ciao! Ciao! Dai, fammi vedere insieme a Giardina che cosa hai imparato oggi, vai. Aspetta però, io non ti vedo qua. Ah, ok. Ok, vai. Vediamo. Brava! Oddio! Che saltone! Bravissima! Amore, sei bravissima! Siete bravissime tutte e due! Secondo me diventerai molto brava, Nastardia, brava tesoro! Adesso beviti il tuo cocktail, che te lo meriti, anche Giardina che avete lavorato. Vediamo! Brava! Dai! Ma amore, sono emozionata! Però che, cioè, ci stanno in buon modo, così, l'altro è un po'. L'altro... Vai bene! Io ti faccio la prima cosa, per esempio. Ah, tre! Uh! C'è, quello? Una pezzi, perché mi sono andato un po' di attività. Continuo? Sì. Da quello che fai più. E la stessa bambina che mi segui da... Però che, eh, faccio io così. E la stessa bambina che mi segui da... Brava, amore! Hai già stile! Hai capito? Non sei... Non parti dal zero! Si vede che hai già delle basi! Brava! Bravissima! Bravissime, amore! Vane, Anni si è addormentata. Anni, amore, dorme. È stanchissima, siamo andati a cena fuori. Eh? Com'è andata oggi, Anastasia e Pop, Vane? Bene? Ti è piaciuta? Sì. Si è comportata bene? Amore, che risponde anche lei? Anni, tutto bene? Adesso facciamo la nanna? Sei stanco, amore mio? Allora, concludiamo qua questo video del primo giorno di Pop di... Ciao, amore! Notte! Notte, amore! Concludiamo questo... Eh? Anche a voi cuccioli e cucciolini mi do la buonanotte! Amore mio, che stava dormendo! Sei stanca? Eh? Allora, iscrivetevi al canale! Attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video! Ciao! Ciao, amore! Buonanotte! Ciao, amore! Ciao, amore! Ciao, amore! Grazie per la visione!